Avanzano i lavori per la difesa della costa a Sassonia di Fano. Tre nuovi segmenti di scogliere si aggiungeranno alle opere già realizzate tra il porto e la focce del fiume Metauro. Domani verrà terminata la prima barriera di fronte all'anfiteatro Rastat, un segmento che fa parte del progetto iniziato con l'investimento di 3 milioni di euro messi a disposizione dal governo tramite la regione Marche. Fondamentale anche la collaborazione della Capitaneria di Porto. Siamo andati ben oltre le nostre più rose aspettative, abbiamo chiesto delle deroghe che ci sono state concesse e ci sono state concesse fino al 30 giugno. Quindi ringraziamo anche per la pazienza per quanto riguarda i bagnanti che in questi giorni stanno guardando questi lavori che stanno andando avanti ma noi ritenevamo siano lavori molto importanti, molto utili per preservare le nostre coste. Quindi continuano, sono pressoché finita la scogliera qui davanti a Bagni Maurizio a protezione anche dell'anfiteatro Rastat e proseguiranno fino al 30 giugno in zona Bersaglio dove verranno rifiorite le scogliere sommerse che già ci sono a maggiore protezione quindi della zona di Bersaglio e dunque andiamo avanti, non ci fermiamo neppure in un periodo così dove la gente viene al mare perché riteniamo che la difesa della costa sia una nostra priorità e anche per tutelare il turismo e le bellezze di questa città. I lavori erano iniziati a maggio a causa del blocco delle attività dovuto all'emergenza Covid-19. Dai prossimi giorni, come spiegato dal vice sindaco, il motopontone si sposterà a Sassonia Sud per proseguire fino alla fine del mese con l'intervento di rafforzamento delle tre scogliere soffolte. E spero entro il 30 giugno di poter iniziare anche i lavori davanti delle due ulteriori scogliere che poi andranno a chiudere questa già fatta con il porto. Quindi una buona notizia spero per la città di Fano e noi siamo particolarmente contenti e ritorniamo a ringraziare la Regione Marche che alla fine in vari modi e anche recentemente ha potuto, ha finanziato questi interventi.